Oggi a Visciano per la diciottesima edizione del Presepe Vivente, siamo col Presidente dell'ANTA, nonché della Tappicini, sempre Presidente Iovino. Oggi una bella serata, per fortuna il tempo è cremente, tanti visitatori per questa bella iniziativa della Proloco. Sempre una bella iniziativa per Visciano, fa onore al Paese, siamo giunti alla diciottesima edizione, pare che i ragazzi qua si impegnano moltissimo. Intanto noi siamo qua in nome e per conto… Voi state raccogliendo dei fondi per che cosa? Per la riapertura della mensa dei poveri. In via Gianturco di Napoli e hanno messo pure a disposizione una moto che si trova alle nostre spalle e che verrà sorteggiata in data 6 gennaio 2017 presso l'Istituto Anselmi di Marigliano in presenza di personale dell'Intendenza di Finanza. Ma stasera vi vediamo senza casacca, come mai? Di solito sempre una bella casacca gialla, fosforescente. Vabbè, diciamo che la casacca dà un po' fastidio alle riprese, è troppo fosforescente. Si dà troppo nell'occhio, è meglio toglierla. Sì, va bene anche così, tanti risultati non cambiano. Vabbè, però era un segno di riconoscimento, anche per qualcuno che voleva chiedere qualcosa, mi poteva identificare comunque. Vabbè, non comment. Lasciamo stare questo… Chiudiamo così, sì, giusto. Allora, chi vuole acquistare il biglietto per il sorteggio per dare l'apertura della mensa dei poveri di Gianturco, lo può fare fino al giorno della Befana, quando poi verrà fatto il sorteggio di questa moto che ha le nostre spalle, giusto? Noi siamo qua, sperando che il tempo permettendo, diciamo, anche col gelo, le ragazze e i ragazzi qua sono sempre al lavoro per portare al termine per un fine umanitario, naturalmente. Ok, ringraziamo il Presidente della ANTA, della TPC, Jovino Giacchini. Grazie a voi, diciamo, per l'interessamento a questo evento spettacolare.